buongiorno allora con questo bel raggio di sole che mi trafigge la faccia che mi bacia e mi illumina andiamo ad analizzare la situazione molti di voi penseranno antonio è impazzito ma in realtà continua ancora per poco poi penso che mi fermerò perché mi causa anche parecchi disagi e problemi il mio servizio pubblico quello di informazione per tutti i dializzati trapiantati allora differenze tra la dialisi domiciliare e modialisi domiciliare e quella in ospedale inizialmente antonio si stanca in ospedale perché i condizionatori sono gelidi perché il personale spesso non può accontentare tutti i pazienti con esigenze diverse perché il personale spesso mette prima se stesso come esigenze e quindi siccome sta in movimento e gli fa caldo allora loro vogliono tenere l'aria fredda in estate poi io mi ammalo qualcun altro non si ammala qualche altra ancora si ammala pure lui eccetera la convivenza diventa difficile tu pensi a casa mia avrò la temperatura che voglio guardo la televisione la trasmissione che voglio la dialisi domicilare sarà più leggera allora non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca ma si può avere coraggio cervello prontezza di spirito poi vi spiegherò cosa intendo dire palle che quelle proprio ne abbiamo a buttare e una certa autonomia di ragionamento e quindi di decisione cioè nel momento in cui comunque devi fare la dialisi e ti devi stancare e devi avere dei problemi dei disagi degli stop diciamo nella tua vita più o meno normale partiamo da un assunto cioè non c'è nessuna differenza se ci pensate bene qui mi riferisco soprattutto alle persone normali che devono convivere con i dializzati eccetera tra un uomo che torna dalla dialisi e vabbè sei stanco e stanco va bene e deve riposare un ore due ore tre ore sarà un po stordito un po stanco con la tv accesa eccetera è un uomo pensateci bene che torna dal lavoro e dice alla sua fidanzata la sua convivente a sua moglie ma oggi quello mi ha rotto le scatole sul lavoro quell'altro mi ha rotto le scatole quella quella cosa e il principale mi ha dato fastidio e sono venuti un sacco di persone che mi hanno esaurito pensate per esempio ad uno che lavora in un'azienda uno che lavora come magazziniere uno che fa lo psicologo c'è un sacco di pazienti di cui assorbe i malesseri uno che fa il meccanico e si stanca e c'è chiunque lavorando torna a casa e qual è la scena tipica amore io mi butto sul divano fai tutto tu lavi i piatti cucina fa e la moglie più o meno insomma così con un spirito di se vogliamo di sacrificio eccetera non avendo un dializzato vicino c'è un uomo che si stanca che si vuota sul divano e che dopo tre ore risuscita quindi differenza tra un uomo che stanco del lavoro normale sano differenza da un uomo che stanco della dialisi non normale non sano ma che poi lo è sano qualche ora dopo nessuna questa è l'illuminazione nessuna allora se la dialisi domiciliare da un lato stanca meno ma dall'altro pulisce meno e quindi sei più stanco nei giorni in cui non dializzi mentre con la dialisi che ti stanca di più quella in ospedale siccome ad alta efficienza poi i giorni che non dializzi stai benissimo stai molto meglio non sei tossico già c'è un guadagno cioè quindi dialisi in ospedale efficienza e non stanchezza ma forza lucidità ti senti un leone nei giorni in cui non dializzi contro domiciliare 1 a 0 bucarsi tre volte anziché 4 o 5 quindi sei buchi a settimana contro 8 o 10 buchi a settimana 2 a 0 per la dialisi in ospedale tempo libero 4 giorni liberi compreso il weekend intero contro 1 2 o massimo tre giorni libri della domiciliare 3 a 0 per le modialisi in ospedale ora possibile che le modialisi domiciliare non abbia dei pregi molti descrivono i pregi delle modialisi domiciliare quindi parlate pure con gli altri non parlate solo con me ma io vi parlo di me della mia vita e della mia esperienza vi ho parlato delle sacche gelide che non sopportavo vi ho parlato del caregiver che non viveva con me ed era vincolato vi ho parlato del priming lunghissimo perché la macchina andava preparata per un'ora 50 minuti 70 minuti una cosa lunghissima di cui molti sono lamentati e me l'han detto in ospedale un'infermiera mi ha detto ci stanno si stanno lamentando in tanti per questo priming lungo dobbiamo cercare di parlarne di risolverlo di vedere sulla macchina si può fare qualcosa ora che la mia macchina potesse essere anche difettosa vabbè che magari me la cambiavano e improvvisamente il priming si accorciava vabbè ma io da quando sono andato adesso di nuovo a dializzare in ospedale mi sono reso conto che è successa una cosa in due giorni cioè prima di io arrivo mi hanno detto che ero bianco che ero anemico che sembrava che stessi male perché stiamo dializzando con la domiciliare quindi pulivo meno ero tossico ero stanco dolore alle spalle ansie che si riversavano attorno a me una scelta difficile poi la scelta di lasciarla ancora più difficile scontenti qualcuno deludi qualcun altro torni indietro sensazione di sconfetta sensazione di fallimento di deludere qualcuno di deludere te stesso non è semplice psicologicamente scegliere una cosa restare deluso e poi scegliere di tornare indietro però la forza di farlo e il coraggio di farla questa scelta io ce l'ho avuto prima e seconda volta ora arrivo lì faccio la prima dialisi arrivo a farla seconda e mi dicono ma dove hai cambiato colore sei più rosso sulle guance non sembri bianco giallo anemico si vede che stai meglio finisco la seconda dialisi l'infermina dice madonna tu sei cambiato da così a così si vede che stai depurando che stai meglio ma sarà vero in sole due dialisi fatte in ospedale che io possa essere cambiato così visibilmente agli occhi di un'infermiera che in fondo mi conosce da da tre quattro giorni la signora del letto di fronte ma no è vero è vero notato anch'io hai cambiato proprio colore stai più rosso stai più si vede che stai meglio si vede che stai meglio non lo so non lo so probabilmente è vero che io sto meglio e probabilmente anche chi mi circonda potrebbe accorgersi o si accorge o si accorgerà che io sto meglio che io sono più sano che io sono più forte ora e chiudo questa cosa perché abbiamo capito che l'emodialisi domiciliare ha 50 mila difetti vi faccio vedere la situazione qui ho una serie di chiechi di attacco e stacco che devono essere ritirati e portati via non li posso tenere così dal ripostiglio da tutti i mobili che erano pieni non potevo più utilizzarli per il loro spazio perché ne so pendole tegami e cose varie sono emerse tutte queste sacche circa 80 sacche che devono essere portati via e ritirate in questi giorni quando il corriere verrà a prenderle lì su quel carrilino c'era la macchina la macchina non c'è più qui era tutto pieno vabbè lasciate stare che devo ritirare il bucato metterlo piegarlo metterlo a posto era tutto pieno di immondizia lo vedete nel video precedente immondizia bustoni enormi di plastica e cartoni vuoti ovunque in camera da letto allora questa non era più una casa questa era senza ombra di dubbio anche per chi entrava qui che fosse la fidanzata l'amico la mamma anche l'ospite che viene o la ragazza che magari vuole la lezione di pianoforte faccio per dire era una latrina era una schifezza non c'era spazio per muoversi e diventava asfissiante angosciante soprattutto per chi non ha il controllo come me della situazione ma lo era pure per me non è stato difficile capirlo per fortuna in tempi brevi e la confusione il disordine rimandavano continuamente alla causa della confusione del disordine cioè questa persona è malata questa persona non sta bene questa persona deve realizzare c'è la macchina lì che ci ricorda sempre una condizione che invece va lasciata fuori dalla vita e dalla casa la casa deve essere un nido di pace dove farsi le coccole devo guardare un film insieme cucinare gli arancini ridere scherzare c'è la casa è casa l'ospedale ospedale uno che fa amore ciao vado al lavoro oppure mamma ciao vado al lavoro benissimo amore ciao vado in dialisi mamma ciao in dialisi il lavoro è fuori e come si dice i problemi di lavoro non si portano in famiglia e così i problemi di dialisi non si portano in famiglia si torna a casa fatta la dialisi felice sereno tranquillo disintossicato e tutto e si vivono i rapporti con se stessi i rapporti con gli altri rapporti col partner i rapporti con gli amici rapporti con tutti senza condizionare soffocare e tossicizzare cioè rendere tossico l'ambiente casalingo che deve essere privo di riferimenti a quella condizione questa è la mia opinione e penso che sia ampiamente condivisibile ora spero che il corriere venga a prendersi tutta questa roba così questa casa che io di cui ottengo sempre come dire della quale ho sempre cura la posso rimettere nuovamente totalmente in ordine la pulita tranquilla e serena non so se sto dimenticando qualcosa probabilmente posso dirvi che la dialisi in ospedale certo non è una passeggiata ma questo lo sapete sono cinque anni che faccio video e che aiuto persone che ancora oggi e ieri avanti e l'altro ieri mi arrivano email messaggi cose gente che mi chiede che mi parlano che mi ringrazio va ok quindi evidentemente al mondo ci sto per qualche motivo e uno di questi motivi è proprio questo il fatto di aiutare il prossimo ora io voglio come dire farvi capire che forse l'emodialisi domiciliare e io ho esagerato a descriverla in un certo momento inefficiente perché poi vado comunque a rovinare il lavoro di chi ha i vertici di questo progetto e ne ha pieno merito si sta impegnando per domiciliare pazienti stanchi dell'ospedale con continui poi miglioramenti a queste macchine quindi da un lato mi hanno ringraziato perché comunque io con questo con il video precedente ho fatto capire tanti handicap dall'altro però andare a smontare l'entusiasmo di chi vuole cominciare di chi ci lavora oppure non è giusto perché uno dice no allora antonio si è trovato male lui è il nostro riferimento non sono altri video testimonianze di chi si è trovato bene non possiamo sentire due campane non facciamo la domiciliare e non è giusto allora che la macchina pulisca meno è evidente che ci siano delle problematiche in fase di risoluzione evidente però parlate anche con chi dicevo parlate neanche con chi ci sta lavorando che vi illustrerà anche i pregi e i miglioramenti tra l'altro in futuro queste macchine sicuramente miglioreranno come tutte le macchine del mondo e non è giusto che io mi metta poi a dire che la macchina è una cacata io posso dire che la macchina non è efficiente come una fra i seni o 5.800 ma grazie al cacchio si sa voglio dire adesso quello che mi interessa è che io mi sono riappropriato e che io mi possa continuare a riappropriare della mia vita della mia forza fisica della mia libertà del mio benessere del mio essere contagiosamente si può dire così felice di irradiare come sempre ho fatto fino a prima di questa parentesi calore umano gioia bellezza gioia di vivere gli occhi più belli del mondo mi dicono ci scherziamo su e proprio benessere a chi mi sta vicino e a me stesso e libertà il weekend per andare al mare tutto il resto che avevo perso perché poi e qui chiudo antonio quando ha scelto di passare in domiciliare perché ha avuto tante polmoniti tante bronchiti tanti altri problemi dei ricoveri ma antonio non è che tutta la vita ha avuto ogni estate ricoveri polmoniti bronchiti è una contingenza è una coincidenza è una cosa ristretta nello spazio e nel tempo a maggio 2016 ponte oggi cioè antonio si ammala più volte condizionatori sparati a manetta problematiche di salute quindi antonio va in ansia si preoccupa molto per la sua salute trasmette la sua ansia anche a chi lo circonda guarisce ma ha paura di ricadute si sente più debole del normale pensa di trovare una soluzione a casa la scelta di andare a dializzare a casa è pesante è difficile quindi antonio ha ancora più ansia scelta difficile che non avrebbe dovuto fare anni fa o fra qualche anno giusto in questo periodo antonio si rende conto che questa scelta lo rende non più la bella persona allegra e felice serena e leader che era fino a qualche mese fa chi non lo conosce bene può anche pensare che antonio sia sempre così che antonio è sempre tossico che antonio è sempre in ansia che antonio ha sempre bisogno di supporti psicologici di consigli di consulenti e magari voi nella mia condizione avreste fatto lo stesso ma quando antonio poi scopre che a casa si sta male si può tornare in ospedale dove non si piglieranno polmoniti si sta bene si dializza bene eccetera antonio non è quello che andrà di nuovo in ansia non è quello che si ripiglierà le polmoniti non è quello che avrà ancora paura di essere molto più fragile degli altri quindi antonio torna a essere quello che è stato dal 1981 fino a maggio del 2016 cioè un pazzo allegro felice folle leader forte cazzuto e quindi tolta la parentesi emotivamente difficile da gestire chi mi ha affiancato lo sa della scelta ospedale domiciliare domiciliare ritorno in ospedale antonio ritorna ad essere una persona perfettamente sana e così mi auguro che siate anche voi e che chi vi sta vicino lo comprenda e combatta insieme a voi non più di quanto sia effettivamente necessario perché poi in realtà piuttosto che combattere combattere tutti i giorni anche quando non ce n'è motivo si può molto più semplicemente andare al mare essere felici controllarsi con l'acqua certo avevo meno sete con la domiciliare ma anche adesso con le mondiali se non sto avendo molta sete perché la mia alimentazione è talmente trasformata e vincolata in certi canali strutturata come si deve che la sete continua a non ricordarmi più di tanto cosa sia mi fanno i complimenti già all'ospedale nuovo perché porto poco peso gli altri portano 5 kg io porto 1 kg e 4 cioè coraggio ragazzi coraggio ripeto non si può avere la botte piene della moglie ubriaca non è una condizione meravigliosa ma quello che è meraviglioso è qui dentro qui dentro e là quel sole che deve essere il pilota della nostra vita un abbraccio a tutti e a chi so io un abbraccio ancora più grande grazie